Ciao, sono Femme Marulli e siamo a video di oggi e farò la reazione ad un video di Mr.Peng che si chiama Er Faina Chiama Adesso ragazzi andiamo a vedere questo video Pronto? Ludovico E chi parla? Tutti lo sanno, non mi fa di cosa No, ma dillo quanto vuoi, chi sei? Dai Ludovico, lo sanno tutti Eh, Ludovica, Ludovica Lo sappiamo tutti che c'hai la plastica dentro al cervello E tu la merda forse Ma che c'hai al posto del cervello, una broca, che cazzo, dai No, ma la gente è fuori, un pazzo, senti, senti Ah, quindi tu mi stai a dire che manco di droghi Ma chi sei? Er Faina E chi è Er Faina? Er Faina pesa all'ustia Ma cosa fai? Ma che sei tu, c'è un Ma perché sei così aggressivo? Cioè stai impicciata così di tuo Che cos'è impicciata? Impicciata, per farti capire, è come era Cenerentola a mezzanotte meno un quarto, uguale Eh, e com'era a mezzanotte meno un quarto? Ma sei di Roma E come voleva si dimostrare la nucia? Ha capito proprio niente Ma scusa, ma perché mi insulti? Ah, quindi tu mi stai a dire che manco di droghi Manco me drogo? Eh, ma magari, guarda Magari ci stai a drogare Ho visto il video di Fedez italiana Fedez È sembrato così, eh? A butto là Che è girato in America Ma non è in America È in Italia Cioè questo, oltre a vantasse che c'è il fio americano Oltre al fatto che sta più in America dell'Italia Fa la canzone italiana Do giro il video A Panstrings Los Angeles No a Gallipoli Faina, scusa, ti devo lasciare Purtroppo, mi dispiace Ciao, ciao E Faina vesallustia Ciao, grazie Ciao, ciao, ciao Pronto? America Sì? Ma che sei, tu, c'è uno Ma scusi, con chi sta parlando per cortesia? Chi cazzo siete? Fatemi capire, chi cazzo siete? Oddio Ma scusi, che cazzo vuole lei? E mi venite a levar il video mio Perché dico tu stronzate Ma di che cosa sta parlando? Eh, adesso gli faccio parlare con mio marito Butta il zoo Aspetta Aspetta, butto da un momento Mi non so più che adesso che Pronto? America Ehi Chi cazzo siete? Fatemi capire, chi cazzo siete? Ma tu chi sei, scusa? E mi venite a levar il video mio Perché dico tu stronzate? Quale video tuo? Scusa un momento Spiegati Ma lo sai che vi dico? Eh, che le segnalazioni vostre E le minacce vostre E il Faina se le sto a parcazzo Io ti ho minacciato? Ma stai scherzando? Avete capito che me le sto a parcazzo? Ma scusa, scusa, ma cosa stai dicendo? Scusa un momento Guarda che non ho proprio parlato con niente Con nessuno Io che sono la persona più buona di questa terra Eh, che pensate? Ti abbattemi a me? No, proprio per niente Ma non so di cosa mi stai Mi stai colpevolizzando Di cose che proprio non lo so E sinceramente Se ho fatto una cosa Non penso di averla fatta in modo cattivo E se ti chiedo Ti chiedo scusa Ma non Non riesco a capire Io so l'improte di quello che cazzo Mi pare a me Beh, sicuro Certo, certo È vero Se non ti piace il video mio Non te lo guarda Fate un cane Fate una vita sociale Fate una scopata Non mi rompete il cazzo a me Non penso di averlo criticato Non mi permetterei mai scusa Perché non ti conosco È il fai Forse ho sbagliato Ho sbagliato qualcosa da schiacciare Perché ti chiedo scusa Perché molto veramente Col telefono non ho tanta domestichezza Può essere Ho sbagliato Ti chiedo scusa Non lo so Se ho fatto una cosa L'ho fatta in buona fede Credimi Oppure l'ho fatta senza saperlo E mi venite a levar il video mio Perché ti con un slozzale Ma no, no, no Assolutamente Non penso di averlo criticato Non mi permetterei mai scusa Perché dovevi farlo con te Tantomeno non ti conosco Scusami Forse ho sbagliato Ho sbagliato qualcosa da schiacciare Perché ti chiedo scusa Perché molto probabilmente Col telefono non ho tanta domestichezza Può essere Ho sbagliato Ti chiedo scusa Non lo so Ma se ho fatto una cosa L'ho fatta in buona fede Credimi Oppure l'ho fatta senza saperlo E mi venite a levar il video mio Perché ti con un slozzale Ma no, no, no Assolutamente Ti ho detto una cosa Ma è la verità quella che ti sto dicendo Eh? O perché ti dico la verità? A te ne so Dio caro E fai una resallustia Ok saluti Comunque raga Voglio salutare in questo video Luca Maruli Poi Mano Ed Urbano Poi Francesco Maranga E infine Marco Rosati E quindi Ranga Ci rivediamo A un prossimo video Ciao 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 Ciao